Se tu stai facendo un percorso, come dire, in realtà avere anche l'umiltà di mettersi a una scuola, come può essere la scuola storica, quindi avere anche l'umiltà di dire ok, io adesso provo a cambiare postura e mi faccio insegnare da questi libri, da queste figure di saggi, mi faccio insegnare come fare. E' un modo, una forma diciamo di docilità rispetto all'insegnamento di un maestro che può essere in carne e ossa, ma può essere anche un maestro che ci immaginiamo semplicemente, che secondo me ci alleggerisce moltissimo di un inganno del senso di colpa, che è l'idea che tante cose dipendano da noi, che tante cose in qualche modo noi ce le possiamo rimproverare o rinfacciare, quando invece magari appunto da noi non dipendono, non solo, ma quando invece magari non hanno nessuna relazione con quello che è il nostro raggio d'azione. Per cui se io, questo sono una campionessa, nel dirmi oddio appunto quelle due ore che ho passato al cinema, avrei potuto fare questo, 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 ma tutte cose che poi in realtà non sarebbero state utili a nessuno, perché tante volte magari uno ha veramente bisogno di ascoltare invece un ritmo che è più suo e magari appunto di splendere, di stare con gli altri, di essere presente con più intensità per meno tempo, perché ha del tempo che usa per la sua vita interiore. Ecco, in questo secondo me sentirsi in colpa è diffusissimo, devo dire, soprattutto per le donne, secondo me, no? Perché noi adesso stiamo vivendo uno strano momento storico in cui comunque ancora abbiamo tutte le cure della casa, che ci, le attività della cura, diciamo, domestica, familiare, eccetera, che sì, per quanto, per fortuna non si è più come poteva essere qualche decennio fa, continuano in qualche modo sottile, un po' strisciante ad esserci attribuite, no? Quanto meno come una responsabilità, ma in realtà poi abbiamo anche tutto l'aspetto del lavoro, molto spesso, o comunque di molte altre cose che ci portano via tantissimo tempo, per cui tante volte appunto io quello che dico è, invece di dire faccio una lavatrice già che sono a casa, no, mettetevi sul divano, accendete una candela, vi leggete un libro, vi bevete un bicchiere di vino anche senza sentirvi in colpa, io questa è la cosa che cerco di fare, ed è una cosa banalissima, però è anche difficile perché ti costringe a spostare anche uno sguardo autogiudicante, che in realtà appunto colpovolizza proprio il momento dell'abbandono e del piacere, no? Il piacere è anche di non fare niente qualche volta.